Un patto sociale fra il governo e tutte le parti sociali rappresentative del paese per incentivare le politiche della crescita economica, del lavoro, dell'occupazione, del welfare e del fisco. Sono questi gli argomenti che la Compsal, il sindacato autonomo dei lavoratori, ha portato all'attenzione collettiva durante un convegno che si è tenuto a Bari. C'è bisogno di sindacato, anche se devo rilevare che il governo rispetto a quello che dovrebbe essere una normale democrazia, il confronto con le parti sociali non l'ha voluto fare. Lo stesso presidente Renzi ha detto che lui sa quello che deve fare, quindi non c'è bisogno di andare a sentire le parti sociali. E' una espressione molto preoccupante perché incide sulla democrazia di un paese. Quindi a Bari, ma in Italia, c'è questo problema con questo governo. Noi nonostante però questo andiamo avanti nelle nostre proposte, cerchiamo il confronto a tutti i modi, non lo troviamo del tutto, ma cerchiamo di tenere attivo il ragionamento perché ritengo che un paese che non ascolta le parti sociali sia un paese che vada indietro rispetto a un paese moderno, un paese che voglia costruire, perché di questo si tratta, un cambiamento epocale nella nostra nazione. Un patto che riparta dal cambiamento, a partire dalla riforma delle norme introdotte dal ministro Fornero sulla flessibilità del lavoro. I parlamentari sono gli stessi, i governi si assomigliano, applaudirono la riforma Fornero. Oggi tutti e i protagonisti dell'applauso sono contrari e allora un paese non si capisce più niente. Si fa una cosa e poi ce la rimangiamo, convinti di far bene e poi dopo ci si accorge che è sbagliato. Per esempio sulla legge Fornero la consa ha fatto grosse battaglie perché è una legge sbagliata proprio alla radice. Si vede non soltanto ma anche il pensionamento posticipato. Si va a contrarre a delle idee di libertà fra l'altro perché noi riteniamo che ognuno vada in pensione quando vuole andare in pensione, quando ordinano altri di andare in pensione.